Andrea, nel primo appuntamento della decima settimana biblica diocesana, il relatore, Monsignor Valentino Bulgarelli, preside della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, si è soffermato sul connubio tra Bibbia e Catechesi, chiamata ad essere cassa di risonanza della parola di Dio. L'intervista ai nostri microfoni. Come evangelizzare oggi? Credo che la sfida che Papa Francesco ha lanciato con l'Evangelii Gaudium sia estremamente stimolante per le chiese, non solo italiane, ma di tutto il mondo. Per cui la fortuna di poter avere delle indicazioni così suggestive che chiedono a tutte le comunità di rimettersi in gioco sia un percorso, un itinerario affascinante. E questo ci dà anche la possibilità di riscoprire l'essenziale della vita cristiana, della fede, del nostro incontro con Cristo. Per cui come evangelizzare oggi credo che significhi prima di tutto questo, recuperare il nostro legame, il nostro incontro con Cristo. Concretamente come si può agire? Come ci si può mettere in gioco, come diceva lei? La sfida che il Papa lancia è, dal mio punto di vista, molto interessante, perché richiama e riconsidera il valore del quotidiano, cioè dell'esperienza del quotidiano. Che vuol dire la vita di tutti i giorni, le scelte, le sfide e forse un po' la fatica che abbiamo avuto in questi tempi, che ovviamente ci sono, ma da sempre ci sono sfide e fatiche. E' stato quello di esserci un po' allontanati dal vivere quotidiano. Per cui accorciare un po' le distanze, come dice Papa Francesco, credo che questo sia un po' il come poter fare oggi.